Dopo aver trascorso qualche settimana in Puglia in compagnia del compagno Matteo Salvini, Elisa Isoardi è stata nuovamente immortalata in compagnia del leader della Lega, durante una pausa sulla spiaggia di Sabaudia. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto della coppia, tra baci, tenerezze e risate. Per la precedente pausa i due avevano scelto Ischia. L'estate scorsa le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraevano la conduttrice in compagnia di un altro uomo, avevano fatto parlare di crisi. Lo stesso Salvini è intervenuto in seguito sull'argomento, sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. Viviamo problemi come ogni coppia, li risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali. Si rassegnino spioni guardoni e chiacchieroni.